Ognuno vede che così non si può andare avanti, ognuno vede che questo governo è paralizzato nelle decisioni, ognuno vede che ci sono fibrillazioni non componibili. Ecco, il punto è quanto si va avanti così? Io credo che la maggioranza, le forze che compongono questa maggioranza sono di fronte a una responsabilità, quella di prendere atto della situazione, perché avere davanti, immaginare di avere davanti ancora del tempo nel quale il Paese non ha un timone è molto pericoloso. Berlusconi ha bisogno di ammanettare la sua maggioranza a fronte di una manovra che non regge, che è stata mal preparata, mal concepita, che non ha dentro uno straccio di idea, che ci prepara un'ulteriore manovra fra un po' di mesi e che però adesso bisogna blindare per non avere grane politiche. Questo è il punto, chiaro. Il Paese ne avrà dei danni. È una manovra ingiusta, sento Berlusconi parlare di bene comune, in una manovra che non chiede nulla ai ricchi come lui e mette il peso tutto addosso alle famiglie. Bene comune, ma non ha paura che un qualche Dio lo fulmini, per il coraggio. Bisogna cambiare questa manovra. Devono discutere, abbiamo fatto proposte serie che mantengono i saldi e però che cambiano il segno, bisogna caricare diversamente il peso. C'è anche oltre al tema sociale c'è il tema democratico, siamo arrivati anche qui al capolinea, abbiamo delle norme che sono contro la legalità. Il Parlamento è costretto discutere norme che vanno contro la legalità, non solo dal lato della libertà di informazione, ricordiamocelo sempre, ma dal lato del contrasto della criminalità. Qui vogliono farci votare delle norme che sono state giudicate in modo totalmente negativo da chi è sul fronte antimafia, per esempio, da magistratura inquirente, da procuratore della Repubblica, perbacco. Non è possibile, questi sono punti non superabili. Quindi anche il tema democrazia e legalità assieme al grande tema sociale mostra che siamo a un capolinea qui. Siamo arrivati a un punto tale, nella crudezza dei problemi, che riguardano, ripeto, alcuni fondamenti costituzionali, che riguardano alcuni elementi basilari del vivere comune, che i vincoli di maggioranza di fronte alle scelte che si propongono forse è giusto che cominciano a traballare, perché diversamente dovremmo immaginare che qui siamo l'unico governo democratico del mondo che va avanti a voti di fiducia senza mai poter ragionare sul merito delle scelte.